anche scusate anche la voce ma qualche problema mi ha tolto anche la voce. Io volevo ringraziare le compagnie e compagni per questo appuntamento che avete voluto fissare qui ad Eboli con una forza della sinistra che torna a parlare di mezzogiorno che torna a parlare del sud. Cosa di cui da troppo tempo non sento più parlare e tornare a parlare di mezzogiorno a partire da Eboli di quello che stando a Carlo Levi nel suo fantastico libro del Cristo si è fermato ad Eboli per decenni ha voluto rappresentare il limite della civiltà. Al di sotto di Eboli appunto Cristo non era andato e c'era appunto il profondo sud con tutte le limitazioni e i drammi di questo territorio. Era è un peccato che per troppo tempo e qui sono d'accordo con compagno Brunetti non si è parlato più la sinistra non ha più ha parlato di mezzogiorno. Io sono figlio di una cultura invece che ha cercato sempre di riflettere su quale potessero essere le possibilità di sviluppo a partire appunto dal recupero del mezzogiorno d'Italia di questo immenso territorio dalle potenzialità straordinarie che ha visto però sempre maggiormente accrescersi il divario rispetto al resto del paese e le crisi che abbiamo vissuto come poi dirò rapidissimamente dalla crisi finanziaria del duemila otto duemila e nove a quella del covid fino a questa ultima del legata alla guerra in Ucraina non sta facendo altro che approfondire ulteriormente il baratro il divario fra il mezzogiorno d'Italia e il resto del paese. Ecco io sono figlio invece in una tradizione comunista esattamente cinquantuno anni fa io mi sono iscritto al al partito comunista italiano che invece partiva da questa riflessione sul mezzogiorno una grande tradizione quella ebolitana che nasceva già durante il periodo del del fascismo intorno alla figura di Mario Garuglieri ma che poi ha conosciuto esempi e compagni di altissimo livello da Alinovi a Cassese a Sparano alla cui formazione mi sono alla cui scuola mi sono formato e a cui alla cui formazione poi hanno contribuito in modo decisivo compagni come Vincenzo Aite e come Tonino Gasparro. Il mezzo di Ebolic è stato un emblema appunto della riflessione su che cosa potesse essere il mezzogiorno e come a partire dalle proprie risorse il mezzogiorno potesse crescere. Oggi noi stiamo assistendo a un qualcosa di drammatico. Questa città Eboli vado rapidissimamente che è una città di quarantamila abitanti e oggetto a un processo di spopolamento che non ha conosciuto neanche durante il periodo dell'immediato dopo guerra. Abbiamo un processo di una percentuale migratoria che è superiore a quella che c'era alla fine degli anni quaranta e se non ci fossero i migranti questa città sarebbe in vero e proprio allarme spopolamento ma non solo Eboli l'intera piana del Sile che è un'area fra le più ricche della regione Campania. Vicino a noi c'è Battipaglia che negli anni ottanta era una delle cento città più dinamiche dal punto di vista economico in tutta Italia. Il polo della chimica. Bene, il processo di spopolamento di desertificazione industriale che ha colpito Battipaglia è qualcosa che griderebbe l'allarme e su cui bisognerebbe ragionare ma nessuno lo fa. La cosa drammatica è che questi processi che sono in atto e che ogni anno danno l'idea di un'area che si sta accartocciando su se stessa. Ecco su questi processi nessuna ragiona, nessuno riflette. La Piana del Sile è una delle aree dal punto di vista della produzione agricola è più fertile con le maggiori potenzialità Giovanni. Bene, sono arrivati i capitali del nord che prendono le terre, decidono loro cosa si produce, decidono loro quanto produrre. E si produce per miliardi di euro, ma qui sul territorio non rimane nulla. Rimane il caporalato, un fenomeno che pensavamo Tonino, di avere sconfitto negli anni settanta e ottanta. Il fenomeno del caporalato è più presente di quegli anni perché questi ragazzi che vengono sul nostro territorio a lavorare non hanno nessuna garanzia e l'unica risposta che si dà è quella di allontanarli dai centri abitati per cui diventano sempre più soli, sempre più deboli e sempre più schiavi, letteralmente schiavi di chi appunto gestisce il mondo agricolo e il mondo dell'edilizia nella nostra realtà. Allora è importante, vado a chiudere ringraziandomi ancora una volta per avermi dato la possibilità di prendere la parola. È importante che si torni a ragionare del Mezzogiorno d'Italia, di queste tante realtà che stanno morendo. Io di professione faccio il segretario comunale, lo faccio nei paesi piccoli dell'interno, del Cilento, del Vallo di Diano, dell'Alto Sele. Un mondo straordinario, una ricchezza culturale immensa di cui non si ha proprio idea, soggetti a un processo di spopolamento drammatico. Ci sono paesi dove secondo me il tasso, la media anagrafica è superiore ai sessant'anni, i giovani vanno via perché non hanno nulla da fare nonostante le potenzialità immense, immense di questi territori. Non ci sono vie di comunicazione, fanno l'alta velocità e chiudo su questa, fanno l'alta velocità perché dovrebbero collegare il sud con il centro Europa, ma l'alta velocità nelle nostre terre, non porta niente, a Eboli va addirittura sotto, non c'è nessuna ricaduta sul territorio, nessuno utile per il territorio, utilizza, utilizzano il nostro territorio. E allora, se non torniamo a parlare di mezzogiorno, io credo che queste aree sono destinate sempre di più a cadere nel dimenticatoio, nonostante i governi dei migliori e dei tecnici che di questo mezzogiorno se ne fregano ampiamente. Io ho detto a Loredana, torno a iscrivermi a Rifondazione Comunista. Se Rifondazione Comunista vuole riprendere queste grandi battaglie. Grazie e buon lavoro.